Benvenuti a creazione nel ventunesimo secolo. Le nostre scoperte scientifiche sono collegate alla vostra vita cristiana. Sono David Reeves e negli ultimi dieci anni ho intrapreso un viaggio per avvicinare le persone a Cristo, ma mostrando loro che Egli è il loro creatore. Non siete il risultato di un incidente, ma siete stati creati in un modo meraviglioso. È il racconto della creazione che troviamo fin dalla Genesi, che contiene le chiavi per sbloccare la comprensione della vita, della morte e perché abbiamo bisogno di un salvatore. Iniziamo e cominciamo con i cieli di chiaro. Il ghepardo, l'animale terrestre più veloce del mondo, può raggiungere una velocità fino a 112 km orari e non ci vuole molto per arrivare a questa velocità, quasi 80 km orari in solo due secondi. Un'incredibile accelerazione che permette loro di avvicinarsi alle prede a sorpresa per poi sopraffare animali insospettabili come le gazzelle con una raffica di velocità che non può essere uguagliata. Sapete, quando corre un salto può misurare più di 6 metri. Sono solo a un paio di metri da un ghepardo in questo momento. Sono creature veramente maestose. Possono essere facilmente riconosciuti da caratteristiche uniche come un corpo macchiato sottile, il grande petto, la lunga coda maculata. È il modo migliore per identificarli e dalla lunga striscia a forma di lacrima nera che va dall'angolo degli occhi lungo il naso fino alla bocca. È interessante sapere che i ghepardi non possono ritirare gli artigli come gli altri grandi felini. Anche in questo caso, a differenza dei leoni e delle tigri che inseguono le loro prede di notte, i ghepardi sono attivi il giorno e cacciano al crepuscolo e all'alba. Dovrei essere nervoso, no? Ma spero di no, perché non c'è modo che possa correre più veloce di una di queste magnifiche creature. Fortunatamente i ghepardi sono noti per mostrare poca aggressività verso gli esseri umani e sono stati domati per migliaia di anni. Iscrizioni risalenti agli egizi sceglievano i ghepardi come animali di compagnia reali. Non c'è da meravigliarsi, questi grandi felini sono incredibilmente maestosi. Vediamo un adattamento in molte creature qui nella savana africana, vari colori e dimensioni, ma vediamo anche mutazioni e implicazioni genetiche, specialmente nel ghepardo. E queste non sono benefiche, ma in migliaia di anni i ghepardi sono rimasti ghepardi, un animale unico con caratteristiche uniche. Io sono David Reeves dal Sud Africa. Salve, incontriamo il mio amico Body Hatch. Ha conseguito il suo master in ingegneria meccanica e ha fatto un lavoro di ingegneria per Caterpillar prima di unirsi al gruppo di conferenzieri risposte nella Genesi. Apprezzo le sue capacità comunicative, le sue conoscenze su una vasta gamma di argomenti e sono entusiasta di uno di questi argomenti oggi e di dargli il benvenuto. È bello essere qui. È bello averti qui con noi. In realtà sei stato nostro ospite in passato, ma volevo riportarti per parlare di qualcosa che è un tema scottante, soprattutto per alcuni che potrebbero essere un po' critici, perché la gente dice sempre, ascolta, è la tua Bibbia, presumo. I nuovi cristiani credono in un libro sacro e siete solo una delle tante centinaia di religioni al mondo. Come fai a sapere che la tua è corretta? Parla di questo per un po', introduci l'argomento e approfondisci alcuni dettagli. Sì, questa è la grande domanda. Come fai a sapere che la Bibbia vera rispetto a tutto il resto? Perché Dio contro tutte le altre religioni? Sai una cosa? Voglio approfondirla perché è un ottimo argomento. Va bene, vediamo. Quello che dobbiamo capire è che ci sono solo due religioni nel mondo. Solo due. Sì, abbiamo tante religioni diverse, ma ce ne sono solo due. Quella di Dio e quella che non è di Dio. Wow! Noi a volte non facciamo un passo indietro per vedere il quadro generale. C'è Dio contro tutti, si tratta di questo veramente. E se non viene da Dio e non viene dalla sua parola, da dove viene? Viene dalla mente dell'uomo. Le idee dell'uomo sono state usate per distogliere le persone dalla parola di Dio e ci sono molti modi per farlo. Questo è il quadro generale. Quando capiamo che fin dall'inizio ci sono solo due religioni, quella di Dio e quella che non è di Dio, ecco dove lo scontro. Tutto ciò che riteniamo essere una religione, che non è la vera immagine di Dio, significa che ce lo siamo inventato e non è una religione. Noi siamo sviati dalla verità e a volte aggiungiamo ad essa qualche errore, quando ci immergiamo nelle religioni mistiche o nelle religioni materialistiche o pagane o quando cerchiamo di contraffare qualche cosa dal cristianesimo. È lì che cominciamo a vedere tutte queste diverse religioni. Persone diverse le hanno suddivise in modi molto diversi. A volte le suddividono tra religioni polideistiche o quelle che credono in Dio o in nessun Dio e così via. Ci sono molti modi in cui la gente lo fa. Quindi hai raccolto tutto in un libro, hai fatto una tonnellata di ricerche, tre volumi sulle religioni del mondo e il loro impatto e hai guardato e puntato tutto contro la parola di Dio. Corretto. Abbiamo analizzato oltre 60 religioni e culti del mondo e abbiamo lavorato con esperti provenienti da 5 continenti che hanno rivisto i libri e abbiamo iniziato a sottolineare che ci sono solo due religioni, quella di Dio e quella che non è di Dio. E se non viene da Dio allora viene dagli uomini. Ora, ogni volta che le idee dell'uomo vengono usate per elevare una parola di divinità superata, che cos'è? In realtà è la religione dell'umanesimo in cui le idee dell'uomo sono usate per allontanare le persone dalla parola di Dio, per deviarlo in una di queste altre religioni. Ecco che cos'è. È una battaglia. Il cristianesimo contro l'umanesimo e tutte queste varie religioni sono dei sottogruppi di una visione umanistica del mondo. Ok, andiamo a vedere alcune di queste altre religioni o quello che sono. Non sono religioni di Dio. Corretto. Allora, c'è un filosofo, il suo nome è il dottor Greg Bonson. Lui è anche un pastore e lui ha diviso le religioni e le ha messe in quattro categorie principali. Una di queste è la religione mistica, tipo il misticismo orientale. Essenzialmente dice che tutto è spirito, che tutto è uno. Magari hai sentito parlare di questa filosofia orientale. Praticamente tutto ciò che sembra reale non è reale. Si chiama la dottrina di Maya nell'induismo, per darti un'idea. Tutto è uno. Tu sei me, io sono te, cose del genere. Forse ne hai sentito parlare. La successiva categoria è quella delle religioni moralistiche. Religioni che in un modo o nell'altro hanno una sorta di codice morale. Forse non necessariamente una morale biblica, ma cercano di avere una sorta di codice da seguire. Religioni pagane. Anche cose come la stregoneria sono incluse in questo. Cose mitologiche. Si potrebbe pensare alla mitologia greca e cose del genere. Molte di queste religioni sono raggruppate sotto queste. E poi finalmente arriviamo alla religione secolare o atea, che fa parte delle religioni materialistiche. Al contrario delle religioni mistiche, in cui tutto è spirito e nulla è materiale, queste dicono che tutto è materiale e non c'è spirito. Quindi non c'è nessun reame spirituale. Tutto è qui e ora e tu sei Dio. Certo. La natura è tutto ciò che c'è o cose del genere, come disse Carla Sagan. Questo sarebbe ateismo, agnosticismo, naturalismo, materialismo, tutto questo genere di religioni. Ok. E poi finalmente abbiamo le religioni che contraffanno il cristianesimo, chiamate cristianesimo contraffatto. Assomigliano e agiscono come il cristianesimo, ma poi deviano e si allontanano. Possiamo pensare all'Islam, ai testimoni di Geova, ai mormoni e tanti altri che vanno in quella direzione. Quindi queste sono le quattro categorie principali sotto l'ombrello di religioni che non sono di Dio. E pensi che da queste quattro voci puoi riassumere pressoché tutte le religioni del mondo? Sì, per la maggior parte sono tutte classificate in queste categorie e posso mostrare anche i dettagli. Nel misticismo l'induismo è la principale, il taoismo o New Age che è popolare nella nostra cultura. Il jainismo, Hare Krishna, i Sikh, persino Scientology entra in questa classifica fino ad un certo punto. Se diamo uno sguardo alle religioni moralistiche c'è il paganesimo a cascata, ma c'è anche il voodoo, la stregoneria, persino cose come lo stoicismo. Ti ricordi gli stoici, gli epicurei? C'è il druidismo, la mitologia, ma anche quelle che arrivano dall'Oriente come lo shintoismo, dal Giappone, il buddismo, il confucianesimo, tutte queste rientrano in questa categoria. Se guardiamo le religioni materialistiche c'è l'ateismo, l'agnosticismo, persino l'epicureismo, Parmenide, uno dei primi evoluzionisti. Poi abbiamo il nazismo, il comunismo, l'umanesimo secolare, molte di queste rientrano sotto una visione naturalistica o materialistica del mondo. E poi finalmente quando si tratta di religioni contraffatte c'è l'islamismo, persino il giudaismo, i mormoni, i testimoni di Geova, potremmo pensare al deismo, anche alcune un po' fuori dal comune come i Baha'i, il satanismo, gruppi che rientrano sotto questa categoria. Ok, e quindi se dovessimo riassumere tutto in un grafico, cosa stiamo guardando? Quali sono le nostre fondazioni, le nostre basi? Immaginiamo una montagna. Sai, la parola di Dio è la roccia, è il solido fondamento. Poi c'è la sabbia che affonda. Sai che la Bibbia parla di queste cose. Abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento costruito sopra l'Antico e ne è l'adempimento, quello che il Vecchio Testamento ha sempre cercato, e Cristo è in cima. Questo è l'obiettivo, è lì che vogliamo stare, l'autorità della parola di Dio aggrappata alla croce, è lì che vogliamo essere. Ma poi se salti giù dalla roccia e ti butti nell'opinione umana, quello che sta succedendo, allora le persone si allontanano dalla parola di Dio e ovviamente si allontanano dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Quella è davvero una buona immagine. Faccio questo esempio molte volte quando parlo. Prendo una Bibbia e dico, abbiamo Genesi 1.1 che dice all'inizio Dio ha creato. Infatti si può trovare l'origine stessa del tempo, dello spazio e della materia. E quel primo versetto è l'origine di tutto, l'origine dell'intero universo. Dopodiché hai la storia, hai i Vangeli e hai anche eventi futuri profetici. Ma indovinate e cosa succede? Quando la giri in questo modo, sei seduto sulle fondamenta dell'intero universo. Tutto il resto è basato su questo. Se si rimuove quel fondamento, tutto cade. Certo. Quindi quando lo guardate come una montagna, come il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento in cima, qualsiasi altra cosa è solo l'opinione dell'uomo. Alla base di quella montagna c'è la Genesi. È proprio lì sotto. È vero. Ora, ci sono persone che dicono, loro hanno il loro libro sacro, voi avete la vostra Bibbia, è un po' come un mercatino, scegli quello che vuoi. Molte di queste persone hanno dei cosiddetti libri sacri. Consideriamo però il misticismo orientale. Voglio dire, hanno l'Upanishadi, Veda. Se prendiamo in considerazione altri testi, abbiamo i testi di Ron Hubbard. Per molte di queste religioni orientali, che si tratti di taoismo, di sico, qualunque cosa, ecco il punto. Questa è la vera competizione con la Bibbia. La Bibbia è la parola rivelata del Dio della verità. Se guardi questi altri testi, sono solo dei suggerimenti, sagge parola di molti dei loro antichi fondatori. Non è necessariamente una parola rivelata di Rama, il presunto Dio dell'induismo, che si manifesta in molti modi. Non vediamo questo. In realtà non sono in competizione con la Bibbia. Ci sono un sacco di contraddizioni all'interno, ed effettivamente gli sta bene questo, perché sono solo le idee della gente su ciò che pensano di Dio e l'ambito immateriale. Sei un credente? Sì, sono un credente, sì lo sono. Hai dato uno sguardo ad altre religioni? Sì, l'ho fatto. Ne ho studiate alcune. Penso che il cristianesimo però sia quello in cui credo e dov'è il mio cuore e la mia mente. E la mia vita è stata trasformata quando ho dato la mia vita a Gesù. Sì, sono un credente. Hai guardato altre religioni e le hai paragonate alla religione cristiana? Sì, l'ho fatto. E cosa ne pensi? Ho scoperto che in tante altre religioni c'è solo una persona che ti dice di credere in loro per tutto, mentre nel cristianesimo vediamo attraverso l'intera Bibbia che si ripete che più persone che vivevano in luoghi diversi, in momenti diversi, sono tutti arrivati alla stessa verità. E penso che il cristianesimo sia unico e straordinario. Non sono nemmeno in competizione. Quando le smonti in realtà sono arbitrarie perché sono solo idee dell'uomo sulle cose, non necessariamente idee di Dio che è l'autorità assoluta. Allora, se la Bibbia è vera, è molto diverso da tutto questo perché è la parola ispirata di Dio. Corretto. Sono due categorie totalmente differenti. D'accordo? Diamo un'occhiata alle religioni moralistiche e mitiche. Sì, abbiamo un sacco di scritti da parte dei loro adepti, scritti pagani, qualsiasi cosa, dall'adorazione di Bala, alla mitologia greca e romana, alla drammaturgia, abbiamo scritti di Confucio o Buddha, abbiamo cose animistiche e spiritismo, qualsiasi cosa, come la stragoneria, ma ecco il punto. Queste non sono necessariamente le parole ispirate di Zeus o di Dioniso o di Odino. Queste sono le idee della gente su quello che pensano dell'ambito spirituale o su Dio o su credenze pagane e così via. Non sono la vera parola rivelata di Dio da un vero Dio. E la maggior parte di loro non pretendono nemmeno di esserlo. No, non sono delle rivelazioni dai loro dei, quindi non sono nemmeno in competizione con la Bibbia. Se ci pensi bene, loro stessi sono arbitrari. È interessante. E voglio dire, andiamo a vedere le religioni secolari o ateiste, le religioni materialistiche. Ebbene, prima di tutto, non hanno un Dio. È vero. Ciò che hanno è solamente l'opinione delle persone se Dio esiste oppure no. Pensate a Richard Dawkins o a Carl Sagan. Non c'è niente per loro che possa essere realizzato con la parola di Dio o qualcosa di santo, perché non hanno un Dio santo. No, numero uno. Quindi, se ci fermiamo per un momento e guardiamo e diciamo misticismo orientale. Le religioni morali e mitologiche, le religioni secolari e atee, se ne sono andate così, in fretta. Wow. Velocemente. Tutte loro hanno rifiutato Dio. Non sono nemmeno in competizione per la Bibbia, quindi tre quarti delle religioni del mondo non possono nemmeno competere con la Bibbia. All'istante, così velocemente, in un attimo, sì, sono stati tutti affrontati. Esatto. Ora, guardiamo queste tre e riportiamole alla nostra illustrazione, la montagna dell'Antico e del Nuovo Testamento. Cosa sta succedendo con il misticismo? Sta proprio qui, sulla concezione dell'uomo, supponendo che nulla sia veramente reale. E così sono bloccati sull'opinione umana. Beh, i moralisti. Tante religioni moralistiche vogliono una sorta di morale. Quindi, cosa fanno? Da dove prendono la morale? Beh, il loro Dio non l'ha rivelata loro, quindi devono prenderla in prestito, inevitabilmente dalla parola di Dio. Ecco perché ha un martello in mano e lo sta lanciando e sta cercando di demolire la montagna. E gli atei, i naturalisti, beh, non vogliono affatto Dio. Si tengono a distanza. Sì. Vagano in giro in cerca di un'opinione umana che cambia però tutto il tempo. Sai, quando mi chiedono, è vera la Bibbia? Che ne dici di questi altri libri sacri? La gente non parla dei Veda, non parlano delle scritte di Buddha o cose del genere. Sai di cosa parlano? Parlano delle imitazioni del cristianesimo, del Corano, del Libro dei Mormoni e che dire poi di questa roba di Charles Russell. Queste sono le cose che la gente vuole tirar fuori. Diamo un'occhiata però più in dettaglio. Di solito quelle che la gente tira in ballo sono queste quattro religioni, l'Islam, i Mormoni, i testimoni di Geova e anche il Giudaismo. Ora voglio che la gente capisca che la maggior parte di queste religioni sono d'accordo che la Bibbia è vera. Giusto. Se facciamo un passo indietro e verifichiamo, ci rendiamo conto che il Corano dice che la Bibbia è vera. Ecco un sacco di versetti, solo per farci un'idea, da una sura, capitolo 4, 1, 36. Dicono che il Libro è stato stabilito prima del tempo e si suppone che tu creda a queste cose. La maggior parte della gente non si rende conto che il Corano afferma che la Bibbia è vera. E che dire del Libro dei Mormoni? Che dire di Svegliatevi, di La Torre di Guardia o gli studi sulle scritture dei primi libri di Russell? Essenzialmente sono d'accordo che la Bibbia è vera, ma qui la differenza, ecco cosa succede. Dicono sì, la Bibbia è vera, ma... e vogliono aggiungere qualcosa. Per esempio, i Mormoni vogliono aggiungere il Libro dei Mormoni o la perla del Gran Prezzo o la dottrina e i patti. Dicono sì, la Bibbia è vera, ma aggiungiamo quest'altra roba. E i testimoni di Geova dicono sì, la Bibbia è vera, ma dobbiamo aggiungere per esempio Svegliatevi o la Torre di Guardia o lo studio delle scritture. Sì, lo so che tante volte dicono dobbiamo rinterpretare la Bibbia e apportare modifiche ad essa. I testimoni di Geova e i Mormoni sono famosi per ripassare la Bibbia e cambiare le cose. I Mormoni hanno una traduzione di Smith che ha cambiato circa 4.000 versetti. I testimoni di Geova hanno la traduzione del Nuovo Mondo e anche loro hanno cambiato le cose. Ma partono tutti da quest'idea che la Bibbia è vera. Perfino l'Islam è molto chiaro sul fatto che Mosè fu un profeta, quindi i suoi scritti sono attendibili e Gesù fu un profeta, affermano. Sì, affermano che i libri di Mosè, i salmi, sono veri e anche i Vangeli. I Vangeli sono ovviamente il Nuovo Testamento, se ci pensi. Quindi hanno quasi le fondamentazioni giuste, ma vogliono approfondire qualcos'altro, un'esperienza superiore. Sì, nel caso dell'Islam vogliono prendere la Bibbia, ma poi vogliono aggiungere il Corano e l'Haddit. Che succede col Giudaismo? Prendono l'Antico Testamento e poi prendono il Talmud, che è la tradizione orale che loro reinterpretano, ma poi sottraggono il Nuovo Testamento. Quindi lo sottraggono e lo rimpiazzano con il Talmud. Ci sono persone che hanno detto, ho capito, lo stanno prendendo e poi stanno cercando di aggiungere adesso. Ecco quello che succede di solito. Diciamo che hai la Bibbia proprio nel mezzo e poi hai il Libro dei Mormoni, hai il Corano e tutte queste altre diverse cose. E poi ciò che affermano è che, ed è così comodo, affermano sì, la Bibbia è vera, ma in base alla rivelazione dobbiamo reinterpretare la Bibbia. È quello che tutti sembrano fare. Ed è come... Aspetta un po'. È così che dovremmo fare? Sai, secondo le scritture abbiamo effettivamente fatto tutto al contrario. Dovremmo utilizzare la rivelazione precedente per giudicare qualsiasi rivelazione successiva. Vedi, lo stanno facendo in modo sconveniente. Dicono, prendiamo il Nuovo e reinterpretiamo il Vecchio. Ma è troppo facile fare così. Aspetta un minuto. Non è quello che succede quando un pastore dice, va bene, noi crediamo nella Bibbia, ma questi nuovi scienziati ci stanno dicendo che la Terra ha miliardi di anni, quindi dobbiamo reinterpretare la Bibbia in base alle nuove evidenze. È esattamente lo stesso metodo che stanno utilizzando. Loro prendono una cosa nuova, una convinzione diversa e poi dicono, ritorniamo adesso alla Bibbia e reinterpretiamola. Dovresti invece prendere una rivelazione precedente per interpretare una rivelazione successiva. Quindi prendi la Bibbia per vedere le altre e giudicare le altre. Infatti, il Nuovo Testamento, quando il Nuovo Testamento fu scritto, cosa fecero? Sono tornati all'Antico per provare che Gesù era il Cristo tramite le scritture dell'Antico. Usavano l'Antico Testamento per costruire la difesa per il Nuovo Testamento. Non hanno detto adesso che abbiamo il Nuovo Testamento e andiamo a reinterpretare l'Antico. Non ha funzionato così. Ad esempio, in Atti 18-28, Paolo confutava infatti vigorosamente i giudei dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Ora, il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. Lui si riferiva alle scritture dell'Antico. Lui stava usando l'Antico per difendere il Nuovo. È potente questo. Un'altra cosa che notiamo, che la gente dice, cosa ne dici del Corano? Cosa ne dici del Libro dei Mormoni? E se fossero mescolati così bene? È ciò che a volte la gente vuol dire. È vero. Ma c'è un problema. Si chiama incompatibilità. Quando inizi con la Bibbia, realizzi che queste altre rivelazioni sono presunte rivelazioni e sono in realtà incoerenti con la Bibbia. Ad esempio, vediamo il Corano. Il Corano afferma che nessuno può cambiare la parola di Dio. In realtà è affermato due volte nel Corano. E tuttavia il Corano dice che i suoi versetti si sono cambiati. E questo persino al suo interno. Sai, un'altra cosa che è legata a questo. Dice che il contenuto della Bibbia è vero, ma poi continua a dire che il contenuto della Bibbia è stato modificato. Aspetta un po', questa è la parola di Dio. Come si può modificare? Vedi, ti imbatti in queste incoerenze. Un'altra cosa che dice il Corano è che afferma che il Dio trino dei cristiani sono tre dei differenti. Il padre, la madre e il figlio. Wow. Aspetta un po'. Il Dio trino è il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Questo è prendere in prestito da pratiche pagane. Corretto. Dove hanno questo concetto di padre, madre e figlio. E quindi ci sono dei malintesi e naturalmente la Bibbia parla ampiamente del padre, del figlio e dello Spirito Santo in tanti versetti che potremmo citare. Quindi, sai, vediamo un sacco di esempi su questo tipo di cose. Se guardiamo Libro dei Mormoni, proprio un salto in avanti qui. Libro dei Mormoni, ehi, concordano che la Bibbia è vera, ma all'improvviso abbiamo delle incoerenze tra il Libro dei Mormoni e la Bibbia. Sai, secondo il Libro dei Mormoni la salvezza è mediante la grazia e le opere, ma secondo la Bibbia la salvezza è mediante la fede e per grazia, indipendentemente dalle opere. Le opere sono un risultato della salvezza, perché ami Dio e così via. Ora, ci sono alcune religioni come i Bahai ed altri che dicono che possiamo, in un certo senso, tu hai parlato di questo un attimo fa, possiamo prendere l'Islam e mescolarlo con il cristianesimo. È ciò che i Bahai fanno. I Bahai cercano di fare la stessa cosa che l'Islam ha fatto col cristianesimo. Loro dicono, sì, la Bibbia è vera, aggiungiamo adesso il Corano. I Bahai dicono, sì, il cristianesimo è vero, l'Islam è vero, adesso aggiungiamo i Bahai in cima, stanno cercando di fare la stessa cosa. È la stessa pratica che la gente continua a fare. Ci sono troppe incoerenze, le due cose non combaciano, assolutamente. Questo è evidente con i mormoni. Loro sono politeisti, credono in una moltitudine di dei, padre, figlio e spirito santo. Tre dei diversi e anche tu puoi diventare un Dio nel mormonismo, ma secondo la Bibbia c'è un solo Dio. Ora, in conclusione, mi permetto di dire che c'è un'altra collezione di libri sacri che poche persone hanno affrontato nella storia moderna. Sono i libri di testo di Darwin, l'evoluzione di Darwin, i milioni di anni. Sono visti come scritture, come fatti. Esatto. Per poi cambiarla ogni anno. Per esempio, i libri di testo di Darwin sono considerati come le scritture. Richard Dawkins, questo tizio, è considerato come la scrittura. Non sono tanto diversi dagli altri. Tutti provano a prendere in prestito dalla parola di Dio. Mormoni, testimoni di Geova, ebrei, musulmani, tutti loro cercano di scalare quella montagna del cristianesimo, ma sono tutti eradicati e legati al concetto umano. Gli atei non sono molto diversi. Ok, concludi per noi. Chi è all'apice di questo? Chi è il picco del Nuovo Testamento? Naturalmente è Gesù Cristo. Gesù Cristo, la croce, la morte, la sepoltura e la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E vogliamo vedere le persone che si stacchino dal concetto umano, dalla falsa religione ed aggrapparsi alla parola di Dio. È meraviglioso. Ho un amico che crede in una religione diversa dalla mia, ma io non conosco nulla su questa religione. Come posso fare? C'è una serie di cose che potresti fare. A dire il vero ho degli amici e ho dovuto parlare con loro, quindi capisco lo stress. Può essere una cosa delicata e voglio incoraggiarti in questo. Prima di tutto non temere di fare delle domande. Se qualcuno ha una religione e tu non sei sicura di che si tratta, chiedi di cosa si tratta. Per la maggior parte delle volte sono più che felici di dirti di cosa si tratta. Quello che voglio che tu faccia è che provi a classificarle. Ricordati, ci sono quattro modi differenti in cui le religioni possono essere classificate. Ci sono le religioni spirituali, cioè le religioni mistiche, che credono che tutto è spirito e che il mondo materiale non esiste, come l'induismo o la new age. Ci sono religioni che dicono che tutto è materiale, nulla è spirituale. Le religioni materialistiche, come l'ateismo o l'agnosticismo. Poi ci sono alcune religioni che hanno una sorta di codice morale, ma non hanno necessariamente degli standard assoluti di chi è il Dio che ha rivelato quella moralità. Abbiamo qualche altra religione, ma ecco la chiave. Fagli delle domande e quando li ascolti, digli, ehi, questa è una di quelle religioni mistiche, questa è new age, è una religione atea o è qualche cosa di più che sta cercando di mescolare queste religioni. Una volta che capisci che cosa è, tutto ciò di cui hai bisogno è come confutare quel tipo di religione. Non devi conoscere ogni religione, devi solo capire il loro stile. Vorrei ringraziarti moltissimo per essere stato qui con noi, Bodhi. Dovremmo riportarti per qualche episodio futuro. Grazie. È stato bello essere qui, David. Potete basarvi sulla parola di Dio dall'inizio alla fine. È ispirata e contiene la verità di cui avete bisogno. Sai cosa ci dice Gesù Cristo? Dice che se lo ricevi puoi essere insieme a Lui per l'eternità, far parte della sua famiglia. Se non l'hai ancora accettato come Signore Salvatore, fallo oggi. Sono David Reeves, unitevi a noi per il prossimo episodio di creazione nel ventunesimo secolo. Continuate a guardarci perché veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio.